Le trivelle in Valpadana sono più che un'ipotesi. L'autorizzazione alla ricerca di idrocarburi nel nostro territorio è già stata avanzata al governo senza che le istituzioni locali e i cittadini ne siano stati informati. Un progetto che riguarda 36.380 ettari in provincia di Cremona, tre comuni del Mantovano e 41.140 ettari nel Parmense. Per vederci chiaro e non lasciare che la decisione venga presa sopra le teste dei cittadini, un incontro è stato organizzato a Gussola venerdì 4 marzo alle ore 21 in sala Giovanni Paolo II, piazza Comaschi. Un incontro promosso dai comuni di Gussola, Martignana Possa, Bioneta e Bozzolo insieme a una ventina di associazioni ambientaliste. Siamo stati interessati recentemente da due nuovi progetti di ricerca di idrocarburi, uno denominato Gussola e uno denominato Fontevivo. La notizia è rimbalzata sul territorio grazie all'interessamento di un parlamentare mantovano, Zolezzi, e subito ripreso dalla stampa. Nessun sindaco era informato di questa cosa, così come tutti gli altri enti territoriali. Ed è per questo che è partita anche una interrogazione parlamentare a cura dell'onorevole Bordo, nel quale si cerca di attirare l'attenzione sul fatto di coinvolgere sicuramente il territorio in questo processo decisionale. Noi ci siamo immediatamente mobilitati e abbiamo pensato di organizzare un primo momento informativo in una serata pubblica che si terrà a Gussola venerdì prossimo, 4 marzo, alle ore 21, proprio per dare informazione ai cittadini. E lo faremo con due ospiti di eccezione. Pietro Don Marco, che è un giornalista, uno scrittore, ha scritto un libro molto interessante, Le Trivelle d'Italia. Don Roberto Fiorini, un teologo di Mantua, che ci accompagnerà in una riflessione sulle tematiche e i contenuti dell'enciclica Laudato Si. In questo modo di attirare l'attenzione non solo su questo argomento, ma già di aprire la discussione e l'informazione su quello che sarà l'appuntamento del 17 di aprile sul tema del referendum sulle attività di trivellazione in mare.